Poi hai detto, innamorato i pazzi, innamorato, lui è innamorato, un po' dopo lo mettiamo su YouTube, una foto, guarda sul centro d'Italia. Fai intervista, intervista, padre, ma te la figlia l'ami, cornuto? Ma te la figlia l'ami, cornuto? Ma l'ami no, sincero. Allora non sei cornuto, sei geloso o no? Ma sei geloso del poliziotto che si faceva da giovane? Sì, domani è il caso. Hai fatto? Non ti ho fatto parlare? Domani è il caso. Non ti schiaffo su YouTube, domani ti vedo.